Punti di vista differenti e neanche pochi, questo l'esito dell'incontro che c'è stato tra il sindaco Gianluca Festa ed il direttore sportivo della Scandonia Vellino, Nicola Alberani, a cui ha partecipato anche l'attuale presidente del club, Mauriello. Il primo cittadino ha invitato il manager furlivese ad attrezzarsi per la costruzione del roster con l'obiettivo di mandare avanti la macchina organizzativa ed evitare di far morire la matricola e il club. Di diversa opinione il DS, il quale, oltre ad attendere istruzioni dalla casa madre, aspetta il pagamento degli stipendi. Il dirigente ha cercato di spiegare alla sindaco Festa le difficoltà che si avrebbero nell'iniziare l'attività lavorativa facendo capire che nel momento in cui si partirà potrebbero piombare lodi e richieste di pagamento che in ogni caso sono attese. In più ci sarebbero da trovare dei giocatori disponibili ad accettare l'offerta villinese che ad oggi non ha un budget e di conseguenza il direttore sportivo potrebbe fare soltanto offerte da Fantabasket. Alberani è dunque un DS senza portafoglio che attende istruzioni dalla proprietà più che dall'oddelante sindaco Festa che mal che vada potrebbe perdere i suoi 20.000 euro di iscrizione. La preoccupazione di tutti è che si arriverà a settembre con il cerino in mano senza avere chance alternative anche perché i commissari hanno ribadito per l'ennesima volta alla Sidicas di non spendere un euro per lo sport. Insomma per Alberani la sola alternativa per salvare il basket ad Avellino è mettere in liquidazione il club e ricominciare da capo.